Massimo Bitonci, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha difeso l'euro nel suo discorso nel Parlamento di Strasburgo. Lei come commenta? E se ne sono accorti gli italiani in questi anni cosa è successo con l'euro. C'è stato un dimezzamento del potere d'acquisto delle famiglie, le imprese sono andate in crisi, lo Stato non ha potuto fare nessuna politica di carattere monetario, sappiamo che i paesi emergenti continuano a svalutare la propria moneta, l'Italia non lo può fare e l'unico paese che ha avuto un grande vantaggio, bisogna riconoscerlo, è stata la Germania. Quindi diciamo no all'euro, bisogna trovare un'altra soluzione, in Europa ci sono molete a diverse velocità e soprattutto bisogna ricordare che questa infausta scelta ha portato a una grave crisi economica con un'altissima disoccupazione, soprattutto giovanile, e con migliaia di imprese che falliscono ogni anno. Bisogna cambiare sicuramente nel senso che ogni Stato deve fare la propria politica monetaria.